Buongiorno a tutti, il mio nome è Lorenzo Sulpizzi e la mia esperienza di Campus World si è svolta a Madrid, in Spagna, con l'azienda Just Landed, un'azienda che si propone di aiutare tutti i expats, ossia tutti quelli che vanno a vivere all'estero, a trovare lavoro, assistenza sanitaria, a casa, eccetera. E da questa falsa riga, purtroppo avendo superpassato il Campus World nel periodo della quarantena ed essendo quindi stato solo due o tre giorni in ufficio e poi avendo lavorato sempre da casa, ho avuto la possibilità di, grazie anche agli strumenti dell'università, di riflettere un po' sul mio futuro e quindi da quattro mesi a questa parte, all'età di 26 anni, ho aperto un'azienda chiamata Mr. Flat, che appunto sulla falsa riga della Just Landed, del mio Campus World, si propone di offrire stanze in affitto a studenti universitari e giovani lavoratori, appunto al fine di facilitare questo compito. Quindi il mio giudizio è assolutamente positivissimo sul Campus World, su qualsiasi esperienza fatta dall'università in ambito estero, proprio perché dobbiamo essere pronti e tutti i ragazzi, i studenti universitari devono essere pronti ad aprirsi mentalmente, culturalmente ad altri paesi a fare nuova esperienza, non parlare la propria lingua, perché solo questo può spingere chi ha realmente l'ambizione di fare qualcosa, come il sottoscritto, a raggiungere degli ottimi risultati nel tempo, lavorando duramente e mettendo in pratica tutto quello che abbiamo imparato negli anni, prima sui libri e poi praticamente a livello di esperienza, soprattutto anche grazie al Campus World. Quindi la reputo assolutamente un'esperienza da ripetere, benché io non possa, ma consigliata a tutti gli studenti universitari che vogliono partecipare a questo tirocino all'estero.